Una delle frasi che mi sento dire o mi vedo scrivere più spesso è Vorrei averti come professore o vorrei averti avuto come professore o avrei voluto averti come professore o cose del genere Oppure è certo che se i professori fossero come te si andrebbe più volentieri a scuola, certo che io sarei stato uno studente migliore Ora, quando sento queste frasi, da un lato ringrazio, vi sono grato, metto i like, metto i cuoricini Ma dall'altro lato mi dispiace, mi dispiace molto perché sono discorsi, io capisco la buona fede, capisco l'affetto nei miei confronti Ma sono ingiuste verso i professori, sono ingiuste perché un narratore teatrale, uno che fa quello che faccio io e un professore Fanno due cose diverse, no? Allora io, tanto per capirci, non solo devo studiare per imparare in modo abbastanza approfondito delle cose che poi vado a raccontare Ma devo fare un lavoro che consiste nel trasformare queste informazioni in teatro Cioè nel trasformare quella che altrimenti sarebbe una conferenza o una lezione in un monologo, in uno spettacolo E questo è un lavoro che fa parte della mia professione, non è per niente banale Richiede tempo, richiede impegno, ma soprattutto richiede tempo Cioè allora io devo fare dei ragionamenti del tipo, qui ci vuole una battuta Perché è troppo tempo che la gente non ride, poi magari si addormenta Il monologo è troppo pesante, allora riequilibriamo l'approfondimento con un momento di leggerezza, una bella risata Qui ci vuole una frase d'effetto, perché altrimenti la gente non ride Non c'è un momento di passaggio da una sequenza all'altra Cioè tutta una serie di considerazioni di tipo teatrale, di tipo drammaturgico Ora, non si può pretendere, non si può pretendere in nessun modo che un professore Faccia questo tipo di lavoro qui su ogni ora di lezione che fa Io su un'ora di monologo faccio questo tipo di lavoro qui che mi porta via diverse settimane Non è possibile che un professore faccia la stessa cosa su ogni sua lezione Perché sarebbe come un super sovrumano narratore teatrale Un super sovrumano teatrante che avessi in repertorio 200, 300, 400 spettacoli Non è pensabile, non è pensabile L'altra cosa Io quando faccio un'ora di monologo, in quell'ora ci metto tutta l'anima Perché quella è la mia attività lavorativa Allora io ci metto tutta l'espressività del corpo, del volto Io mi inarco, mi piego, mi esprimo, saltello, corro di qua e avanti e indietro, sul palco Quando ho finito? Sono sfinito, sono sfinito Sono sudato in una maniera imbarazzante D'estate mi si formano delle cose, delle incrostazioni imbarazzanti Dei depositi di polvere bianca sulla camicia Io credo che siano i sali minerali che perdo Ok, allora, non potrei mai fare quello stesso sforzo fisico e mentale Per l'orario di lavoro di un professore Cioè per 3, 4, 5 ore al giorno 5 giorni alla settimana Non ce la potrei mai fare Quindi quando uno mi dice Se i professori fossero come te, spiegassero come te le cose Ho capito, ma è come andare da un centometrista E dirgli, eh, certo che se i maratoneti corressero veloci come te Il record del mondo sarebbe molto più basso Ma no, non sarebbe molto più basso Perché se i maratoneti corressero come i centometristi Gli scoppierebbe il cuore dopo meno di un chilometro Quindi nessuno finirebbe la maratona E poi, insomma, le considerazioni sono anche altre Come mi ha giustamente fatto notare una giovane professoressa d'italiano Più giovane di me Noi abbiamo un programma Abbiamo un programma ministeriale Che dobbiamo rispettare in qualche modo Certo, anche quando io spiego La pazzia di Orlando I miei studenti sorridono, ridono Magari non come ride la platea quando la racconti tu Però il fatto è che noi dobbiamo spiegare anche molte altre cose È chiaro, no? Io scrivo cose su commissioni Scrivo monologhi su commissioni Però mi viene dato un tema E all'interno di quel tema sono abbastanza libero Non è che un professore può dire Ecco, no Sto periodo storico qui, guarda Sto periodo storico qui Non fare ne ridere, ne piangere, lo saltiamo Ecco, sta guerra qua, sta guerra qua È l'offia, è l'offia È l'offia, non la faccio Non è così Ok? Quindi, insomma Io vi ringrazio Vi ringrazio di tutti questi attestati di stima Di queste frasi Che veramente mi commuovono Mi fanno piacere Però vi prego Vogliate bene Ai vostri professori O ai professori dei vostri figli Anche perché Se mi posso permettere Da uomo di teatro Vi svelo un piccolo segreto Quando uno ti racconta un fatto Quando ti insegna qualcosa Quando ti espone un ragionamento Se tu lo ascolti Se tu gli dai attenzione Lui è forzato Anche quasi senza accorgersene A raccontarti quella cosa A spiegartela nel miglior modo possibile Meglio che può E allora Se lui ti spiega E ti racconta meglio che può Sarà più facile per te Ascoltarlo con attenzione Perché quella attenzione sarà Insomma Proprio spontanea E più tu lo ascolterai con attenzione Meglio lui spiegherà Ecco È un circolo virtuoso Mentre se tu Devi spiegare O raccontare qualcosa A qualcuno Che è svogliato Che è annoiato Che non ti rispetta Dopo un po' Perdi la concentrazione Dopo un po' Perdi la voglia Insomma C'è un circolo vizioso Quindi vogliate bene I vostri professori O ai professori Dei vostri figli E poi C'è questo paradosso Per cui uno Va da un narratore teatrale E gli dice Dovresti fare il professore Ma Di solito si dice A una persona Che non è brava in un mestiere Di fare un altro mestiere Uno che non è bravo In un certo mestiere Gli si dice Cambia mestiere Oppure gli si danno Delle indicazioni specifiche Tipo dati Datti all'ippica Io sono l'unica persona Che riceve questo invito L'invito di cambiare mestiere Cioè in questo caso Di fare il professore Dalle persone che mi apprezzano Per il mestiere che faccio Che è il narratore teatrale Quindi allora forse Non dobbiamo sperare Non dobbiamo pretendere Che i narratori teatrali Facciano i professori O che i professori Facciano i narratori teatrali Ma voi Voi Prendete dai professori Tutto il sapere che potete Tutte le informazioni che potete Tutta la conoscenza che potete Prendete da me Se vi va L'efficacia Nella comunicazione E poi diventate voi Diventate voi Il miglior professore Che abbiate mai avuto Un professore migliore Dei vostri professori Diventate voi Un narratore Migliore di me Diventate voi Quello che volete diventare Usate tutto quello Che vi viene dato Per diventare Quanto di meglio Potete Diventare Ecco Questo volevo dirvi Alla prossima